buongiorno ragazzi da shell giannino oggi cestini di patate ripieni con arrosto seguite la ricetta vi voglio bene guardate che belli a dopo seguite il mio video ciao amici da shell giannino oggi vi farò una ricetta salvacena con gli avanzi quello che è avanzata abbiamo dell'arrosto che abbiamo fatto settimana scorsa è molto buono l'abbiamo tagliato a fettina abbiamo del formaggio offerte abbiamo del formaggio abbiamo delle patate tagliate sottili abbiamo i nostri stampini faremo dei cestini di patate ripieni alla shell giannino partiamo olio mi raccomando seguite shell giannino un bel pennellino in silicone e spennelliamo tutto bene abbiamo spennellato per bene a questo punto ci prendiamo le belle patate tagliate sottili e 3 mm e dentro mettiamo dentro nel cestino forniamo il cestino riempiamo tutti i buchi ragazzi così è riempiamo tutto riempito tutto abbiamo fatto il fondo a questo punto andiamo avanti continuiamo prendiamo le patate e cerchiamo di metterle aderenti al buchino dello stampo guardate che bello ragazzi e sopraffoniamo un po' così guardate che bello perfetto shell giannino continuiamo facciamo formiamo tutti dei bei cestini fino alla fine ragazzi bene ragazzi i cestini di patate sono pronti a questo punto ci mettiamo un goccino d'olio sul fondo vai shell giannino mi stupirò con questa ricetta ragazzi semplice semplici patate arrosto ci prendiamo adesso le pizzettini di formaggio a quadrettini li mettiamo e mettiamo nel cestino facciamo due per parte ma tutti tutti due mi voglio stupire nel frattempo accendete il forno a 200 gradi formaggio l'abbiamo messo vai di qua di qua di qua di qua poi ci prendiamo dei pezzettini d'arrosto che l'abbiamo tagliato non si butta niente ma che bello arrosto con le patate in forno nel cestino guardate che bei petali vai shell giannino continuiamo così belli guardate che belli arrosto di vitello nel cestino di patate a questo punto che abbiamo riempito tutti i nostri cestini ci prendiamo un po di grana una spolverata non è finita seguita c'è giannino vai abbiamo la croccantezza e saporitissimi ragazzi vai tutto l'ultimo e l'ultimo a questo punto ci aggiungiamo anche delle menta dei pezzettini di emmental così tutti riempiamo tutti i nostri cestinetti ragazzi con le menta guardate che bello ragazzi questo un po troppo un po di qua un po di là guardate che sbelli bellissimi anche veloci da fare non si butta niente patate l'arrosto quello che c'è avanzato anzi vi dirò di più shell giannino ne provo un pezzettino ci vuole anche un bicchierino dai continuiamo mettiamo anche qualche qualche altro pezzettino di formaggio che belli i cestini di shell giannino mamma mia che spettacolo guardate ragazzi formaggio un po da per tutto ma manca facciamo canestro eh qua qua direi che ci siamo a questo punto abbiamo fatto guardate che belli ragazzi ci mettiamo ancora un goccinetto d'olio eh che non fa mai male ci siamo dai perfetto prendiamo il coperchio del cestino e copriamo copriamo tutte copriamo tutti i nostri cestini con la patata guardate che bene ragazzi poi metteremo in forno 15 20 minuti a 180 gradi e copriamo tutto per bene deve rimanere un cestino croccante guardate che bello seguitemi ragazzi mettete un like mettete un commento ci siamo ragazzi ci siamo bene ragazzi guardate che belli i nostri cestini di patate ripieni di arrosto ci prendiamo delle olivette ne mettiamo una facciamo canestro e one ma che belle tac tac qua niente se non sono in mezzo è importante che c'è la materia prima olivetta 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 questa avanza amma mia c'è già dio mangia tutto ci prendiamo un po di grana una spolverata sui nostri cestini mamma mia che spettacolo ragazzi guardate che bello devono essere buonissimi adesso in forno 20 minuti a 180 190 gradi eh ci siamo mamma mia quanti sono buoni c'è già dio bene ragazzi i cestini di patate ripieni di arrosto di chef giannino sono pronti non ci resta che andare in forno riprendi paustina guarda che belli apriamo il forno forno caldo mettiamo e vai facciamo gratinare tutto facciamo a dopo bene ci siamo i nostri cestini di patate mamma mia che belli guardate che belli guarda che bella paustina che bei cestinetti guarda che bello li mettiamo qua adesso li facciamo raffreddare un attimo chef giannino che belli guardate che belli mamma mia che spettacolo ragazzi vi voglio bene a dopo li facciamo raffreddare due minuti eh mamma mia ragazzi proviamo a toglierli eh vediamo se non faccio qualche disastro eh mamma mia che belli ragazzi guardate che belli guardate che bei cestini uno due cestini di patate di cestini di patate di chef giannino cosa possiamo fare a questo punto potete servirli con un po di maionese un po di ketchup a vostro piacimento ragazzi i cestini di patate di chef giannino ripiene con l'arrosto guardate che belli vi voglio bene ragazzi iscrivetevi al mio canale mangio un pezzetto toccantissimo vi voglio bene amici miei iscrivetevi al mio canale chef giannino vi vuole bene grazie a tutti